Prova a risolvere, ma non ammalandoti, ma confrontandoti. Qui, se vuoi, puoi fare la tua protesta contro qualsiasi tipo di ingiustizia. Scrivi qui il cammino di Gigi D'Agostino, 333-6467-662. Fai sentire a tutti le tue imprecazioni. Ma porca la bastarda. Non così, meno. Ma porca la bastarda. Nienche così, leggermente meno. Gina mi ha lasciato una troia. Leggermente meno. Non siamo al frantoio comunale.